In queste settimane purtroppo in provincia di Bergamo abbiamo assistito a un nuovo aumento dei contagi. Com'è la situazione ad Albino? La situazione ad Albino è ancora sotto controllo decisamente, abbiamo ancora pochi casi. Tuttavia devo registrare nelle ultime tre settimane un costante, anche se leggero, anche se lieve, un costante aumento di casi positivi. Nel mese di dicembre e nel mese di gennaio io avevo circa dieci casi positivi. Nelle ultime due o tre settimane sono diventate venti, sono pochi perché il Comune di Albino ha quasi 18.000 abitanti, quindi si tratta di un caso, 1,2 ogni mille abitanti, però sono passato da dieci casi positivi contemporaneamente a una ventina di casi. Questo ci deve mettere in allarme e ci deve spingere a essere sempre più prudenti. Nonostante, ripeto, la situazione sia sotto controllo, i casi siano pochi. Ma questo trend in crescita costante, anche se leggera ma costante, mi preoccupa un po'. Per cui l'invito che faccio ancora ai miei concittadini è quello nuovamente di non abbassare la guardia, di mantenere quelle che sono le misure di sicurezza previste e di rispettare quelli che sono i protocolli e le restrizioni. So che siamo tutti stanchi, ormai è passato un anno, ma il Covid non se n'è ancora andato. Siamo stati solo sfiorati da questa seconda ondata, ma probabilmente anche perché abbiamo tenuto duro e abbiamo mantenuto in maniera davvero esemplare quelle che erano le misure di sicurezza e quelle che erano le misure estrittive che sono previste dai vari PCM, ordinanze locali piuttosto che regionali. Continuiamo ancora in questa direzione. Ancora un po' di pazienza, poi penso davvero che per la tarda primavera e l'inizio dell'estate con la diffusione dei vaccini possiamo davvero tutti assieme uscirne. Grazie a tutti.